Ciao ragazzi, Amato 12 Gaming qui e come potete vedere io giocavo con la mia carriera, tutto normale no? Sembra qui? Beh, tutto normale finché non si gira qui. Chi è questo tipo qua? Questo tipo qui, il 19 che ho qui davanti. Guardate i pantaloni! Nessuno se li ha così. Nessun compagno di squadra suo è così. Guardatelo! Le guardaline non ce l'ha. Neanche il portiere ha i pantaloni lunghi. Non so da dove è stato preso questo. Va in giro così nella realtà? Boh! Comunque sì, non l'avevo mai visto questo in FIFA 13, questo bug, chiamatelo. Sì, quindi volevo farvelo vedere a voi raga. Sì, per cui è tutto a posto. Ok. Ciao ragazzi!